Erano due le opzioni di acquisto, la dose grande, la dose piccola e molto spesso il cliente spingeva anche per avere il cosiddetto regalino, cioè un quantitativo supplementare di eroina a titolo gratuito. Oltre 70 cessioni al giorno documentate a volte con tanto di omaggi per incentivare all'acquisto e fidelizzare i clienti, a portare alla luce l'esistenza di una fiorente strutturata attività di spaccio gestita da tre cittadini di origine nigeriana che controllavano le piazze dell'eroina sul territorio, in particolare nel quartiere di Saione, zona Campo di Marte, è stata la squadra mobile. Siamo riusciti a ricostruire un giro abbastanza imponente di sostanza stupefacente del tipo di eroina che condizionava in maniera abbastanza pesante il territorio di Arezzo. Le indagini erano partite lo scorso febbraio a seguito del decesso di un uomo scaricato in gravi condizioni di fronte all'ospedale, essendo è nato a stroncarlo probabilmente un overdose. Intercettazioni telefoniche, attività su strada e pedinamenti hanno portato a scoprire una vera e propria organizzazione. Ovvero un capo che riceveva le telefonate da parte degli acquirenti e poi due soggetti, sempre di etnia nigeriana come il presunto capo, che effettuavano materialmente le cessioni su strada. Da qui le tre ordinanze di custodia cautelare in carcere emesse dal GIP nei confronti di altrettanti cittadini nigeriani regolari sul territorio e senza precedenti. Sono stati arrestati in flagranza perché trovati in possesso di un considerevole quantitativo di stupefacente, oltre a numerosi cellulari. A casa di questi soggetti abbiamo trovato un imponente quantitativo di eroina, complessivamente circa un chilo di eroina, oltre ad altre sostanze stupefacenti del tipo cocaina e ketamina. Imanet è finito anche un altro cittadino di origini nordafricane, destinatario di una condanna definitiva per reati in materia di stupefacenti.